Un flusso ininterrotto di musica dalle 11 alla mezzanotte dello scorso 18 settembre. E' stato questo in breve The Gathering, nuovo progetto di Ferdinando Arnaud, che ha vinto la Targa Tenco 2022 come miglior album collettivo e che è stato presentato alla Triennale di Milano. Compositore, autore, arrangiatore e produttore, Ferdinando Arnaud ha radunato per l'occasione tanti musicisti per alcune improvvisazioni musicali innate o nella parte interna o nel giardino della Triennale. A queste improvvisazioni si è unito inoltre anche il pubblico tramite alcuni strumenti messi a disposizione dall'organizzazione, in modo da creare un tutt'uno con i musicisti coinvolti e senza ovviamente prediligere un genere musicale specifico. Hanno partecipato all'evento artisti come Iselton, Georgene Kelwaite, Roberto Dell'Era, Tricarico, Johannes Poliswoman e tanti altri, per dar luogo a una grande festa che si colloca insieme alla ventitresima esposizione internazionale di Triennale Milano, Unknown Unknowns, an Introduction to Mysteries, i cui percorsi sono dedicati all'ignoto che diventa una dimensione da vivere. Unknowns, an Introduction to Mysteries, i cui percorsi sono dedicati all'evento a vivere.